Avevano messo a segno svariati furti in abitazione, almeno 37 in quattro mesi e ora sono finiti in manette grazie ad una brillante operazione dei carabinieri. Si tratta di una banda composta da numerose persone, diversi per età, etnia, lingua e provenienza, che erano riusciti a mettere a segno colpi tra Arezzo e Siena. Gli arresti sono stati eseguiti dalle prime luci dell'alba da parte dei militari della Compagnia di Siena in collaborazione con Arezzo e Cortona. Sette le persone a finire in manette, quattro kosovari, un macedone, un albanese e un italiano di età compresa tra i 30 e i 42 anni. Tutti sono indagati per i reati di furto aggravato in abitazione in concorso e furto aggravato di rame. 300, infatti, i chili di rame sequestrati, vari attrezzi atti allo scasso e indumenti per il travestimento. Due arresti a carico di un macedone di 40 anni e di un italiano di 32 sono stati eseguiti nel comune di Foiano della Chiana. Denunciati poi per furto in appartamento e in concorso anche due kosovari, trentenni, uno senza fissa dimora e l'altro residente nel Senese. Un kosovaro di 30 anni e un italiano di 59 residenti a Foiano sono stati invece denunciati per ricettazione. Sequestrati 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di ricettazione ed è stata recuperata e già restituita anche refurtiva per un valore complessivo di 50.000 euro.